Si parte, prova il destro, Baldan che termina sul fondo, del suo numero 7, di pelle, calcio di punizione, parte Rankovic col destro, Marinoni, suo sinistro, Marinoni, zona tiro per lui, carica il sinistro, Natale, uno dribbling, sinistro, si libera sul destro, anche lui però non riesce a centrare lo specchio della porta, pallone sbuca per Marinoni, suo cross col sinistro, è buono alla scuola, sponda e c'è il gol, passa in vantaggio il Mugio con una disattenzione offensiva, assegno, Denis, Maier, ottimo il pallone per Natale che spizza di testa e c'è il pareggio immediato dei padroni di casa, pallone per Cesana che controlla e scarica il destro che sfiora il palo, grande occasione per gli ospiti, cerca Maier di nuovo l'1-2 per persone, carica il destro, deviato calcio d'angolo. Benatti con il rischio di combinare un pasticcio, il pallone rimane lì, pallone in mezzo ma partiti, punta il suo diretto concorrente, palla in mezzo, Maier, 2-1, doppietta per il numero 9 giallo-blu, Carnevale, Dagnoni, bello il suo cross, sbuca sul secondo palo, c'è il contrasto, carica il sinistro, per il destro di Federico Pelle che sfiora l'incrocio dei pali, che prova l'1-1, passa Pelle, trova in qualche modo Natale, poi il pallone rimane lì, calcio di rigore, parte Rankovic, destro incrociare, Fisce l'angolo, ma il pallone si infila sotto a 7, quindi 2-2, al minuto 58. Costa col mancino, e trova un gran gol, Costa dal limite dell'area con il suo sinistro, beffa Fabio Boselli, è 3-2, la rivaltata in due minuti, la squadra di casa. E cerca Persone, la spizzata di testa dove c'è Maier, si alza la bandierina, Maier aveva trovato una bella girata, propone a destra verso Campanella che può crossare, il suo cross è buono per Persone, però non è che rimane lì, Dagnoni, e trova il 3-3 e mischia, con un destro di prima intenzione, il Mugio. Ancora Campanella, cerca Cesana, spazio sulla destra, entra in area, Cesana, il cross in mezzo, chiedono un fallo, chiedono un calcio di rigore. Espulso, intanto, una componente della panchina, doppia espulsione, buona la sterzata col sinistro, trova un gran gol, Cesana, è 4-3, la ribaltata, la squadra ospite, con un gran gol. Suggerimento in area, colpo di testa, attraversa, piena del Club Milano. Allora adesso può avanzare Pelle, che punta la difesa, saltato il primo uomo, Pelle, sa sposta sul destro, scelto Rankovic, suggerimento per Pelle! È un gran gol, su un'invenzione di Rankovic, tra l'asse con Pelle, trova il 4-4. Poi cerca l'imbucata, per Natale una buona idea, Natale entra in area, deve difendersi, poi lascia per Rankovic! Suggerimento in verticale per il gol, ancora lui, Fabio, Natale, è 5-3, l'assist è di Cominetti, entra in campo tutta la panchina ad abbracciare l'autore del gol del 5-4. A 4, scusate, ancora Rankovic, con Cominetti, che trova il gol, che probabilmente chiude la partita! E il gol è di Cominetti! Triplice fischio, non c'è più tempo, finisce così! Triplice fischio, non c'è più tempo, finisce così!